Non c'è più tempo da perdere. La crisi climatica impone a tutti e subito una decisa accelerazione nel cercare soluzioni capaci di mitigare l'impatto dei gas serra. Di questo si è parlato alla conferenza stampa di presentazione di Countdown, iniziativa globale promossa da TEDx Pordenone, patrocinata dal comune di Pordenone che si terrà il 24 novembre 2022 alle 20.30 a Cinema Zero. TEDx Pordenone è un format americano che nasce da TED, che è TED America in questo caso, quindi con la X che sta per evento indipendente, dà la possibilità alle persone, come mai in questo caso, di chiedere una licenza per organizzare all'interno della propria città, appunto da qui il nome TEDx Pordenone. Pordenone perché la mia città è la città anche di altri volontari del team, in tutto siamo circa 30, ed è il nostro contributo alla città appunto di Pordenone, unendo questo nuovo formato culturale alla tanta cultura che già la città ha. Countdown è un'iniziativa globale, appunto data da TED America, a cui i vari TEDx italiani e nel mondo hanno deciso di partecipare. In questo caso quest'anno siamo i nove TEDx italiani, tra cui noi di TEDx Pordenone. Countdown significa conto alla rovescia. Conto alla rovescia verso che cosa? Verso un pianeta B? Un pianeta V che realmente non abbiamo, perché infatti il nostro compito è quello di salvaguardare e lavorare sul pianeta in cui stiamo vivendo. L'evento del 24 novembre, che si svolge grazie al contributo di numerosi partner e realtà del nostro territorio, ha un format prestabilito. Gli speaker invitati dovranno presentare al pubblico un monologo della durata di 12 minuti ciascuno, interventi da cui escono sempre grandi idee e spunti per azioni concrete. Sul palco di Countdown il professore scrittore Andrea Maggi accompagnerà gli interventi dei sei speaker, che tratteranno temi inerenti nuove tecnologie, energia pulita, scarti e riciclo, traendo spunto dall'esperienza personale, da progetti, ricerche e start-up. Siamo molto contenti di essere stati coinvolti in questo progetto che ci affine sia per quanto riguarda il tema della sostenibilità che ci vede da sempre impegnati, ma anche per l'idea di farsi coinvolgere nell'ascoltare nuovi progetti, nuove idee, per provare un po' a cambiare il mondo in cui viviamo. L'amministrazione comunale, in particolare l'assessore Cairoli e l'assessore Parigi, sono molto vicini a questa iniziativa, che è la prima di una serie di iniziative che vogliono portare avanti sul tema ambientale, che questa amministrazione ha fortemente voluto e sostiene già da diverso tempo. Candaun ha già registrato il sold out e ciò dimostra la grande risposta del pubblico, che ha compreso il senso profondo dell'evento, essere fonte di ispirazione e fornire a tutti una speranza per il futuro.